Al via la seconda edizione dello slalom automobilistico trofeo Giuseppe Paladino ad Oppido Mamertina. I motori delle supercar che parteciperanno alla gara saranno accessi il prossimo weekend, l'1 e il 2 settembre. A presentare la manifestazione sportiva è stata una conferenza stampa nell'aula consigliare del comune di Oppido. A fare gli onori di casa il vice sindaco Vincenzo Barca, ma era presente anche il sindaco Domenico Giannetta, Salvatore Lipari, presidente del club Oppido Mamertina Racing, il pilota Giuseppe Cuzzola, il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari, Enzaraggio di Domes Italia e il rappresentante della città metropolitana e del consigliere regionale con delega allo sport Giovanni Nuceva. Tanti gli sponsor che parteciperanno alla kermesse di motori della cittadina pianigiana, una gara che per il secondo anno trova anche l'importante patrocinio della regione Calabria, della città metropolitana di Reggio Calabria, dei comuni di Oppido e Varapodio, dell'Automobile Club Italia Sporto, dell'associazione Piloti per Passione e dell'Oppido Mamertina Racing. Grande soddisfazione perché in effetti è già il secondo anno, quindi questo è un segno importante e tangibile che si vuole dare continuità ad un bel evento che è lo slalom della città di Oppido Mamertina, ripreso dopo circa 20-25 anni, perché già originariamente, molti anni fa, si effettuava all'interno della nostra comunità. Grazie all'associazione Mamertina Racing, che è attiva e presente sul territorio da qualche anno, oggi si è potuto ripresentare questo evento importante, che già dall'anno scorso lasciava presagire un livello importante, un livello superiore dello slalom stesso, tant'è che quest'anno alla seconda edizione ha fatto il pienone di iscrizioni e noi ci auguriamo che soprattutto nei prossimi anni possiamo continuare su questa scia. Un importante momento di uno slalom che è anche tecnico perché da questo punto di vista ci sono anche la cosiddetta brillata, per utilizzare un termine tecnico, dove i piloti si dovranno cimentare con le doti di grande abilità e dove soprattutto porterà nella nostra cittadina tante persone da fuori che avranno nello stesso tempo e nel contempo anche la possibilità di apprezzare le bellezze paesaggistiche, di fare una sorta di promozione comunque turistica del nostro territorio, che è quello che fondamentalmente anche ci interessa dal punto di vista di istituzioni. Noi saremo accanto ad eventi del genere e io nello specifico nella mia doppia veste di sindaco e di consigliere metropolitano per garantire al meglio e col massimo supporto un evento che ci auguriamo veramente possa diventare punto di riferimento e che valichi i confini della comunità oppivese e che si possa proiettare anche in ambito regionale perché no in qualcosa in più. Ad OMS Italia lavora nel campo dell'organizzazione degli eventi, lavoriamo da molti anni ormai con molti brand automobilistici come Ferrari, Lamborghini, Porsche e Maserati. Abbiamo deciso di partecipare come sponsor perché crediamo che bisogna valorizzare il nostro territorio sia per gli aspetti positivi e propositivi che valorizzano appunto noi calabresi anche quando per motivi di lavoro ci troviamo fuori dal nostro territorio.